Ti sei mai interrogato su quali siano i 10 animali più velenosi del mondo? Sul pianeta Terra esistono parecchie specie animali che possono essere letali per l'uomo. Nella classifica di queste creature, molto sono eporecolosissime per via del loro veleno. Da ciò si può dedurre che seppure siano letali, questi animali non attaccano senza un motivo. Ci spieghiamo tutto in questo nuovo video di Animalpidia. Da non perdere! La vespa di mare è senza dubbio l'animale più velenoso del pianeta. Vive principalmente nei mari vicini all'Australia e può avere tentacoli lunghi fino a ben 3 metri. Questo pericolosissimo animale ha una peculiarità. Più diventa grande e più il suo veleno diventa letale. È capace di uccidere una persona adulta in soli 3 minuti. Il serpente marino è un animale presente in tutti i mari del pianeta Terra. Vanta il veleno più letale di tutti i serpenti esistenti. Infatti supera circa di 10 volte quello di un cobra e il suo morso è letale per qualsiasi essere umano. Il pesce pietra è il pesce più velenoso del mondo. Il nome è dovuto al sospetto, simile a una roccia. Il contatto con le spine presenti sul suo corpo è mortale per l'essere umano, poiché il suo veleno è simile a quello di un cobra. Il dolore provocato da una sua puntura è molto intenso e la sua velenosità non lascia scampo a nessuno. Ti sta piacendo il video? Prima di continuare con la nostra lista degli animali più velenosi, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Nella classifica dei 10 animali più velenosi non poteva certo mancare il serpente fiero. Infatti, gli effetti prodotti dal morso dal taipan, il suo veleno può uccidere 100 persone adulte e fino a 250.000 topi. Le sue tossine sono circa 300 volte più tossiche di quelle del serpente cascabel. L'azione neurotossica del suo veleno può portare alla morte un essere umano adulto in solo 45 minuti, cosa che rende necessario correre a un centro medico in meno di mezz'ora nel caso in cui si sia stati morsi. La rana dal dardo velenosa è conosciuta anche come rana dal dardo dorato. Si tratta dell'anfibio più velenoso del pianeta Terra, in quanto tutto il veleno presente nel suo corpo è sufficiente ad uccidere 1500 persone. In passato, i popoli che vivono nel suo habitat bagnavano la punta delle loro frecce con il veleno di questo pericolosissimo animale, per rassicurarsi la morte dei nemici. Già il semplice impatto visivo che provicano i suoi anelli dovrebbe bastare ad avvisarci della sua pericolosità. Il polpo dagli anelli blu è il cefalopodo più pericoloso della Terra, in quanto non esiste alcun antidoto per il suo veleno. Grazie alle sue neurotossine è capace di uccidere ben 26 persone. Si tratta di un animale abbastanza piccolo, ma che possiede un veleno omicidiale. Il mamba nero è un serpente molto conosciuto, è presente anche nel film Kill Bill. È il serpente più volonoso d'Africa e il colore della sua pelle ha sfumatore cangianti, comprese tra il verde scuro e il grigio metallizzato. Un animale molto rapido e territoriale. Solitamente, prima di attaccare, emette dei suoni di avvertimento. Un suo morso inietta 100 mg di veleno. Ne bastano 15 per uccidere qualsiasi uomo. La famosissima vedova nera è il ragno più pericoloso per l'essere umano, soprattutto se si tratta dell'esemplare femmina. È facilmente distinguibile dal maschio, in quanto presenta delle macchie rosse sul corpo. Il suo effetto può essere mortale se non si riceve con urgenza cure mediche. Questo animale può essere mortale in base al peso della persona colpita. Il suo veleno agisce sui tessuti epidermici, causando la morte delle cellule, cosa che potrebbe portare ad aver bisogno di un'amputazione. L'effetto è 10 volte più potente di quello dell'acido solforico. Alla decima posizione si trova lo scorpione. Esistono più di 1400 specie in tutto il mondo e si adattano perfettamente a differenti climi e alimentazioni. Essendo una facile preda per gufi e serpenti, lo scorpione ha sviluppato differenti meccanismi di difesa, ma la sua arma principale è il pungiglione. La maggior parte degli scorpioni non è considerata mortale per gli uomini, ma esistono alcuni esemplari appartenenti a famiglie come quella dei butide che sono estremamente pericolosi. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto il contenuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!